Il Chieti inizia il 2015 con una vittoria in una gara dai due volti contro l'Olimpia agnonese che a sua volta scivola all'ultimo posto. Ma a tener banco è ancora la situazione di caos in Casa Nero Verde e la società pronta anche a fare degli esposti se i toni della contestazione resteranno così alti al punto da incidere in caso qualcuno voglia farsi avanti per acquisire le quote sociali. Le dimissioni di Walter Bellia non sono bastate, lo sciopero prosegue con la Volpi che chiede le dimissioni di tutti i dirigenti in primis del vice Walter Costa. Sì non c'è problema, non è quello importante, ripetiamo, siamo venuti qui in questa società per fare calcio, non ci interessa di politica, non ci interessa nulla. Se per la città, se per questa società, per un progresso futuro possa anche andare bene che noi andiamo via tutti, ma beh venga, anche perché abbiamo delle situazioni che devono essere garantite da chi vuole proseguire, come le abbiamo dovuto prendere in mano noi quando siamo entrati. La partita, il tecnico Teatino Ronci opta ancora per il 3-4-3, squalificati di Pietro e Prinari ancora fuori Vano, c'è Gianmarino nel trio di difesa e Sposito torna nel tridente. Nell'agnonese di Giuseppe Donatelli tutti a disposizione, il tecnico lascia in panchina Ibe e Petrone, sceglie Saltarina accanto a Cantoro. Poche centinaia di spettatori all'Angelini, il grande assente è Walter Bellia, il presidente dimissionario del Chieti. La gara nel primo tempo non è granché, i momenti migliori coincidono con le accelerazioni dell'ex vittorio e Sposito che dopo 4 minuti sblocca la situazione, complice la dormita della retroguardia alto molisana. Facile il diagonale del fantasista, sesto gol in campionato ma nessuna esultanza verso gli ex compagni. Donatelli corre subito ai ripari, dentro Pagliuca per Maresca, il nevo entrato finisce sull'esterno destro, Carpentino retrocesso a sinistra nella linea di difesa, ma dei molisani nessuna traccia dalle parti di Placidi. Il Chieti controlla anche se giocando al piccolo trotto, alla mezz'ora Esposito riceve da Orlando e impegna Biasella. Al quarantunesimo l'unico guizzo ospite del primo tempo con Santoro, quindi il raddoppio. Quarantatresimo Esposito inventa per Broso che è superto con Biasella, non sbaglia e fa 2-0. Terzo gol nero-verde per il centravanti calabrese. Ripresa decisamente più divertente, Donatelli tenta il tutto per tutto, il dodicesimo Vescio e Petrone subito in campo per Biasella e Santoro con il passaggio al 4-3. Al tredicesimo Broso spaventa proprio Vescio, ma l'Agnonese è in campo con un piglio diverso. Cantoro al sedicesimo manda un avvertimento, Placidi alza in angolo, un minuto dopo l'Agnonese accorcia, Siluro da oltre 20 metri di Ricamato, palla sotto il 7, imprendibile. Gara dunque riaperta col quarto centro di Ricamato che dopo appena un minuto ha il pallone del clamoroso 2-2, corregge la punizione di Di Lullo, Placidi distinto e prodigioso. A lato la punizione di Cantoro al ventiduesimo, ora la partita è bella e aperta a qualsiasi risultato, Esposito in torsione al venticinquesimo va vicino alla doppietta, poi sempre il fantasista al ventinovesimo in venta per Broso che spara addosso a Vescio. Il Chieti continua a soffrire i guizzi di Petrone che alla mezz'ora va giù in area, Leo di Roma 2 fa giocare e alla prima pausa ammonisce l'esterno Morisano. Ronci serra le fila con un doppio cambio, ma il Chieti torna a vacillare sul destro in mischia di Saltarin, Placidi ancora provvidenziale. Arrivano gli ultimi sussulti con Esposito al trentanovesimo, col destro vellutato Di Cantoro che al quarantaquattresimo fa esaltare ancora Placidi, quindi il gol che chiude la partita nel primo dei sei minuti di recupero da prestigiatore. Esposito passa in mezzo a tre difensori e completa l'opera lasciando Vescio senza scampo. Il Chieti vince, i tifosi contestano, il presidente dell'Agnonese scarica Donatelli, cronaca di una prima domenica del 2015 a dir poco pirotecnica. Cerchiamo di isolarci, cerchiamo di pensare al campo, cerchiamo di pensare alla maglia che indossiamo, cerchiamo di arrivare alla salvezza prima possibile per poi vedere quello che accade. Io ci tengo in nome di tutti i ragazzi, perché ho parlato con i ragazzi, comunque a dedicare questa vittoria al presidente Bellia perché sappiamo che in una situazione del genere lui è quello che sta soffrendo più di tutti, perché si è dovuto dimettere, si è dimesso, è andato via e tutti noi sappiamo quanto lui tiene alla chi di calcio, quindi è un piccolo pensiero che va all'uomo soprattutto perché so che sta soffrendo. Perché ci siamo complicati la vita dall'inizio, perché secondo me oggi l'allenatore ha delle responsabilità evidenti, perché si è giocato una sostituzione dopo 5 minuti, non ha fatto in modo di inserire dei giocatori validissimi che sono stati in panchina. È l'anticipazione di un esonero di Donatelli? No, 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 non è un esonero di Donatelli, è un discorso che noi affronteremo in società tutti quanti, perché a caldo sarebbe la prima cosa da fare, perché le voglio soltanto dire una cosa, noi abbiamo in panchina oggi un calciatore che l'anno scorso giocava in Europa League, se un giocatore del genere che l'anno scorso ha giocato in Europa League non trova spazio in una formazione di serie D, vuol dire che qualche cosa non va.